Sindaco, i commissari dell'UNESCO in visita in territorio dell'Etna per valutare se il nostro vulcano può entrare appunto in quello che sono i beni che fanno parte dell'UNESCO, una tappa speciale proprio a Nicolosi. Che cosa vi hanno detto, che cosa soprattutto è emerso da quell'appuntamento? Sì, un momento importante di questo percorso che abbiamo voluto tutti i sindaci assieme al commissario del parco dell'Etna circa un anno fa quando abbiamo proposto l'Etna come patrimonio dell'umanità all'UNESCO. Questa tappa che ha fatto la commissione qui è stata per valutare la possibilità dell'inserimento, ha chiaramente visto nei cinque giorni in cui è stato presente a Nicolosi il commissario dell'UNESCO, un ragazzo di 37 anni, da noi questa cosa sarebbe quasi impossibile, la giovanità, ma ha valutato attentamente tutta quella che era la proposta, i carteggi che sono stati presentati dall'Enteparco e dai suoi funzionari, ha fatto dei sopralluoghi nella zona A del parco dell'Etna, che è quella che dovrebbe essere sottoposta alla tutela come patrimonio dell'umanità e pare che i risultati siano positivi. Attendiamo con ansia quello che sarà poi il risponso definitivo da parte della Commissione europea.